Fabio D'Amato, manager e stretto collaboratore dell'influencer Chiara Ferragni, si trova attualmente sotto inchiesta per truffa gravata. Le accuse riguardano il Pandoro Pink Christmas realizzato in collaborazione con l'azienda Balocche, le uova di Pasqua, dolci preziosi. L'indagine è condotta dalla Procura di Milano, come evidenziato nel provvedimento della Procura Generale della Cassazione. Quest'ultimo è stato emesso al fine di determinare quale tra le procure, quella di Milano, quella di Cuneo, avrebbe dovuto occuparsi dei casi in questione. La sostituta procuratrice generale di Cassazione, Mariella De Masellis, deve ancora informare il procuratore aggiunto di Milano e Eugenio Fusco, che sarà lui a continuare le indagini. La decisione di assegnare il caso a Milano si basa sul fatto che i contratti stipulati tra Balocco e le società di Ferragni sono stati firmati nella città lombarda. Oltre alle accuse legate alle uova di Pasqua, dolci preziosi e al Pandoro Balocco, Chiara Ferragni è oggetto di indagine anche per il caso della bambola Trudi. Nel caso specifico del Pandoro è coinvolto anche Alessandra Balocco.